Speriamo finisca presto questa stagione perché veramente una barzelletta come l'ultima punizione al 93 che abbiamo battuto che uno che batte una punizione così va preso e radiato dal mondo del calcio perché ma poi tutta la squadra io, cioè veramente facciamo pena, 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 meno male che da un lato così abbiamo perso la stagione finita, d'ora in poi sì le partite le vedrò perché non riesco a non vederle, mi verrebbe da dire guarda le prossime partite a parte che magari a volte capiterà che lavorerò ahimè ma me ne vado al mare, me ne vado in montagna, mi vado a fare i cazzi miei invece vabbè ma poi io non riesco a non guardare le partite ma almeno le guarderò così solo con magari un minimo di curiosità nel vedere Tudor magari mettere le basi per il prossimo anno anche se poi vabbè quest'estate ci sarà da fare comunque una mini rivoluzione almeno nella Rosa e sul mercato però veramente questa stagione della Lazio è stata un parto, non è andata a buon fine, cioè un'agonia, un'agonia ogni partita, veramente, cioè anche le poche vittorie che abbiamo ottenuto sono state una più brutta dell'altra, cioè io mi immagino la vittoria più bella di quest'anno qual è stata? Forse, vabbè a parte in Champions con il Bayern Monaco, ma nel derby con la Roma no, quello di Coppa Italia, anche quella lì fu una partita ridicola, cioè vinta su rigore con una Roma ridicola, avete visto no, romanisti, io ve l'ho sempre detto che Mourinho era il freno a mano della Roma eppur non giocando benissimo in queste ultime partite, pur chiudendosi diciamo alla Mourinho nel secondo tempo, però la Roma è una squadra che ha un'identità, ha una rosa fortissima, perché adesso che è rientrato anche Eberon comunque ha una rosa forte, che però andava valorizzata, Eberon secondo me è l'uomo giusto, ma a parte la parentesi giallorossa che poi a noi interessa relativamente, mettiamo like, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram, e allora, in Tudor dico la verità, vedo sicuramente la voglia di incidere subito, ha dato comunque temperamento alla squadra, motivazione, dei dettamitatici un po' diversi, però vedo ancora un po' di confusione, perché comunque ha cambiato tre formazioni in tre partite, ha fatto delle scelte anche particolari, perché una volta Kamada me lo mette mediano, una volta adesso l'ha messo tre quartiste, Kamada è un giocatore che è da recuperare, un giocatore che è inguardabile, è vero, però Kamada non può essere questo, e per me, visto anche il match di oggi, Kamada deve giocare più dietro, perché a me la copia Vessino-Gendosi continua a non piacere, non li vedo ben amalgamati, anche se entrambi, forse più Vessino nel secondo tempo meglio e più Gendosi nella ripresa, ci provano, sono giocatori di temperamento che si fanno sentire dentro la partita, però, cioè, abbiamo troppa poca qualità, c'è la Lazio oggi, cos'è mancata? A parte il peso davanti, ma il peso davanti non ce lo abbiamo, adesso arriviamo al discorso Immobile-Castegianos, ma è mancata veramente l'ultima scelta e il tasso tecnico della partita nostra è stato troppo basso, e non è possibile questa cosa qua, perché se è una cosa che la Lazio dovrebbe avere, almeno è la tecnica di base in tanti suoi giocatori, così non è stato. Poi, tornando al discorso di Tudor, non ho capito questi tre cambi a fine primo tempo, che ci stavano su Immobile, non so se Romagnoli aveva qualche problema, comunque Romagnoli ha sbagliato sul gol, non ha marcato Mancini, l'ho visto in affanno su Lukaku, con grande timore reverenziale, ed è una cosa che non può accadere a un giocatore con la personalità che dovrebbe avere Romagnoli, ma il cambio di Zaxen non l'ho capito, perché se doveva uscire uno dei due trequartisti, era sicuramente Kamada, non me ne voglia, che poi ha segnato in fuori giochi, perché i Zaxen è stato l'unico che ha acceso la luce, che a differenza della partita mercoledì con la Juve, che l'ho criticato molto martedì, scusate, oggi era un altro i Zaxen, ha provato a mettere in porta due volte i suoi compagni, via, non mi è dispiaciuto, Pedro non si può più vedere, cioè, Pedro li vogliamo bene, poi con la Roma è sempre nervoso, Pedro non si può più vedere, cioè ci sono due giocatori nella Lazio che sono nulli, uno è Pedro, non me ne voglia Pedro Rodriguez, e l'altro ancora di più è Immobile, basta, basta. Signori, veramente, Immobile è un danno per la Lazio, e mi piange il cuore dirlo, però io è un anno che lo dico, mi sono preso insulti, mi sono preso, ah, non sei laziala, di qua, Immobile non si tocca, adesso tutti, ovviamente, adesso la cosa è chiara e non si può negare che Casteggianos non sarà un fenomeno, ma l'avete visto giocare a calcio, palla nei piedi Casteggianos, ma non c'è paragone, almeno ti tiene la palla, almeno ci prova, almeno, voglio dire, è dinamico, si muove, ci dà di testa, poi, ovviamente, un attaccante è anche piccolino, come fa contro due o tre difensori dei giallorossi? Non accompagniamo l'azione, quindi, anche i nostri attaccanti fanno fatica, fermo, restando che Immobile è un danno, è un danno, ragazzi, ma penso che questa è stata l'ennesima prova, e Tudor deve mettersi in testa che, se fai giocare Immobile, stai facendo un errore a prescindere, poi, magari, può farti anche il gol, ma, voglio dire, quest'anno, su 40 partite, quanti gol ha fatto su azione? Dai, per favore, da subentrante, magari, può essere ancora un minimo incisivo, come è stato sabato, in Lazio Juve 1-0, basta, poi, io l'ho detto, con questo modulo qua, Maruzic, va bene che ha segnato con la Juve, ma, dai, non puoi giocare Maruzic quarto di centrocampo, cioè, Maruzic, ma col sinistro non ci dai in una casa, non dribblo mai l'uomo, non crossa, no, l'unica cosa si può inserire di testa, ma capita raramente, non è che tutte le domeniche ti trovi la Juve che si addormente in difesa, cioè, comunque, primo tempo, ancora, ancora, diciamo, accettabile, e con un, questo errore da calcio d'angolo, perché vedete che su calcio d'angolo si può segnare, noi non riusciamo neanche a colpire la palla, gli altri si inono, Romagnoli, sta addormentato, abbiamo preso gol, bravo, mi fa male il cuore dirlo, perché sappiamo che non è un giocatore simpaticissimo, un po' a tutti, Gianluca Mancini, Mandas non ha potuto nulla, perché Lugopetessa non era angolatissimo, ma molto forte, nella ripresa la Lazio nulla, a parte, l'ho già raccontato, quel gol annulato di Kamada, ha fatto un forcing da far ridere i polli, portato, poi, secondo me, più che altro dall'atteggiamento della Roma, non tanto dal nostro forcing, non lo so, non lo so, ecco, anche se ha difesa 3, no, vi dico, dobbiamo rodarlo un attimino, però dobbiamo un attimo capire, se puntare su Casale, se puntare su Patrick, Romagnoli dobbiamo recuperarlo un po', Mario Ila, sicuramente, è sempre uno dei migliori, però, signori, al momento la Lazio è questa, non è colpa di Tudor, ci mancherebbe, l'unica cosa, come deve trovare quelle due o tre certezze, che ho sciorinato anche in questo video, a mio avviso, poi, sicuramente, lui e molti altri sono più bravi di me ad analizzare la situazione, e dare continuità a queste scelte, ecco, perché almeno si può creare qualcosa, magari fare qualche risultatino e mettere poi le basi per il prossimo anno, comunque, complimenti alla Roma, che ha strameritato la vittoria in un derby, non spettacolare come al solito, ma comunque in cui, diciamo, la Roma è tornata a giocare a calcio, cosa che con Mourinho, diciamo, si era un po' persa, ok? Signori, like al video, iscrivetevi al canale, ciao!